Nell'incontro di auguri per il 2019 abbiamo accolto con apprezzamento generale l'elezione di una senatrice alla Presidenza del Senato. Quest'anno salutiamo con altrettanto apprezzamento la nuova Presidente della Corte Costituzionale e la nuova guida dell'Avvocatura Generale dello Stato, citata di scelte che evidenziano come il merito non trovi ostacoli di genere. La presenza delle donne ai vertici delle istituzioni e nei ruoli di responsabilità delle imprese e della società civile è uno straordinario fattore di crescita e di equilibrio. Stiamo compiendo passi in avanti, anche se ancora non siamo vicini al traguardo. Resistono divari e dobbiamo affrontarli con determinazione per superarli al più presto. Penso in particolare al dato dell'occupazione femminile, troppo carente rispetto al resto dell'Europa. Il lavoro delle donne è oggi per il nostro Paese la principale opportunità di crescita e di sviluppo.